benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video siamo tornati qui con il futuro alternativo del mondo episodio 24 l'ottavo di questa terza guerra mondiale tutto è ancora in stallo nulla è ancora deciso e allora via con la narrazione al 12 luglio 2039 dove iniziamo iniziamo in una zona critica decisamente critica ovvero la penisola iberica un evento è pronto a cambiare infatti il corso della guerra infatti qualcuno riuscirà a guadagnare un po di forza in più parliamo ovviamente del portogallo che ricordiamo col supporto alleato dei gusa riesce a riconquistare città lungo il corso dell'oceano atlantico approfittando peraltro dei loro alleati e dell'inefficienza spagnola nel debellare i loro eserciti la situazione quindi è a nord il congiungimento grazie a porto di questi territori e a sud la conquista di questi altri territori qua beh però se notiamo ho appena dato una città sbagliata potreste dire perché la città di Chielva è stata data al portogallo ma in realtà è spagnola ma come mai tale conquista infatti non è casuale non ho sbagliato non è una cosa fatta senza motivo ma dato che il portogallo adesso insieme agli stati uniti punta verso gibilterra per rifornire l'idc e soprattutto bloccare l'asio ha bisogno di spondare il fronte magari anche prendendo civili e cadice in modo appunto da poter far cadere gibilterra e riuscire a migliorare la situazione dei propri alleati l'intenzione è sul punto di diventare operazione grazie all'offerta del marocco di farne parte infatti l'operazione di prendere gibilterra viene programmata per il primo agosto 2039 18 giorni 19 giorni torniamo un'ultima volta nei balcani per essere più precisi torniamo in bosnia perché in bosnia perché il 16 luglio avviene un colpo di stato che rovesce il governo fantoccio serbo ricordiamoci che questo questo vassallo in realtà non è uno stato diretto ma è governato dalla serbia in modo satellite la bosnia quindi riesce a ottenere la sua indipendenza e tutti vissero felici e contenti ma passiamo no ok qualcuno ci aveva creduto mi dispiace per lui il colpo ovviamente organizzato da ribelli bosniaci e filo croati che sognano un'indipendenza almeno statale dalla serbia e poi magari a separarsi per i fatti loro ma perché non ho tolto il vassallo direte voi e ho messo la bosnia perché era la cosa giusta ma sapete cos'altro è giusto farlo esplodere bene la serbia annetterà militarmente la bosnia data la presenza ovviamente di serbi ovunque nel paese proprio perché era un vassallo quindi da uno stato satellite al niente più adesso sono di nuovo serbia sempre più jugoslavia potremmo dire tale azione però sarà soltanto l'innesto l'innesco di numerosi combattimenti partigiani ma spostiamoci un po più a nord nell'europa centrale più che centrale non si può direi è il 17 luglio e infatti sta per succedere qualcosa di molto importante se guardate questa mappa in europa escludendo vabbè la svezia e gli baltici che sono per i fatti loro un solo stato non è allineato abbiamo il patto dei neutrali abbiamo gli accelerazionisti abbiamo l'idc l'asio manca la repubblica cieca cosa farà mai la repubblica cieca decide di inviare aiuti alla germania proprio come la danimarca ha fatto mesi prima entrando nell'idc tale azione non piacerà all'asio perché in particolar modo alla slovacchia che non può sperare che la germania venga rifornita perché potrebbe essere una delle prime nazioni a risentire di questi aiuti di questo welfare e quindi l'idc è sicuro di poter contare sul nuovo alleato dato che la slovacchia ha diciamo triggerato un'invasione verso la repubblica cieca e ora la repubblica cieca si sente un po nei guai e quindi la faranno entrare nell'idc la situazione è quindi questa ma ricordiamoci di un'operazione importantissima che ha dato via nello scorso episodio l'operazione benizelos se non sapete cos'è andatevi a vedere lo scorso episodio perché ci siamo già sbizzarriti molto comunque tra il 13 scusate tra il 10 e il 23 luglio avverranno numerosi scontri tra milizie asio e turchia in particolare lungo il confine con la russia e sul confine di istanbul per evitarne la caduta il 24 luglio la turchia però decide di indietreggiare diversi chilometri contro la grecia per ritirarsi sia in territori più difendibili sia protetti da linee militari e anche per approfittare della difficoltà organizzativa dei vari eserciti avversari ricordiamo sono poco meno di 2 milioni di truppe perché nel frattempo stanno iniziando a perire però diverse etnie diverse nazionalità e anche un po diversi obiettivi quindi capiamo che la turchia è svantaggiata ma almeno unita nonostante ciò la grecia riuscirà a portarsi decisamente avanti riunendo il sud della turchia della penisola anatolica dopo questa sconfitta se così vogliamo chiamarla l'esercito turco inizia a difendere a tutti i costi i confini impedendo altre avanzate su questo fronte perché sul fronte est viene adoperata la stessa tecnica infatti in particolare dopo la conquista molto molto strategica di mano russa a una città davvero importante come trebisonda che segniamo in questo esatto momento la turchia decide anche essa di indietreggiare per avere una posizione migliore quindi territori più di confine vengono letteralmente abbandonati in mano russa ma anche kurda ricordiamo che ci sono anche i kurdi in questa grande guerra e sicuramente se ne vogliono approfittare kurdi e russi creano così una linea più uniforme nei confronti della turchia che è indietreggiata a questo punto però accade un evento inaspettato il kurdistan contatta infatti la turchia per proporre una pace separata dall'asio ma perché vi chiederete voi non avevano in mente di fare una cosa insieme beh al kurdistan è stato proposto di partecipare all'operazione non di stare in guerra fino in fondo e ricordiamoci che il kurdistan già dal primo episodio in cui è nato si chiama così perché ha l'obiettivo di riunire i territori kurdi cioè il kurdistan non è la nazione europea che deve colonizzare il mondo è una nazione che ha come obiettivo di riunire sotto i propri confini i fratelli kurdi dato che i territori kurdi sono già presenti ad eccezione di qualche città che lo stato vorrebbe reclamare con la diplomazia la turchia e il kurdistan sembrano davvero interessati a discutere la pace in segreto si farà non si farà lo scoprirete nei prossimi episodi torniamo in europa nel nuovo fronte che si è aperto il fronte della repubblica cieca infatti il 26 luglio le prime invasioni e annessioni inizieranno infatti le forze cieche riusciranno a conquistare la vitale città slovacca di zilina non riuscendo però ad entrare oltre dato il numero di forze in campo sia quasi uguale l'esercito ora con l'aiuto tattico tedesco soprattutto visto che è un punto molto critico del fronte potremmo anche chiamarlo il punto di rottura inizia a progettare un attacco lampo verso bratislava ovvero la capitale della slovacchia che peraltro ho visitato qualche annetto fa davvero una bella città ancora conservo il souvenir sul frigorifero commentate con frigorifero se siete arrivati qui e vediamo chi è un vero fan ma ora è il primo agosto quindi una data qualsiasi che il signor pricks e dark giraci hanno pensato a caso vero oppure questo primo agosto vi dice qualcosa vi do tre secondi 1 2 3 ebbene l'operazione senza nome di portogallo marocco e stati uniti verrà rinominata operazione ercole il marocco fortemente supportato dalle truppe gusa ormai interamente ritornate dal fronte contro l'algeria può infatti concentrarsi nel riconquistare le terre che la spagna aveva preso con l'operazione toro del deserto in delle battaglie combattute principalmente a terra il marocco riesce a strappare alla spagna una città molto importante come tautan e poi il 5 agosto due giorni dopo tangier infatti lo vediamo in questa situazione i partigiani portoghesi d'altro canto faranno più fatica nell'avanzata dato la minor presenza di truppe gusa nonostante ciò il 7 agosto i portoghesi riusciranno a tornare ancora una volta a civiglia annettendola gli spagnoli molto meglio equipaggiati sul fronte iberico diciamo in patria eviteranno una dispersione portoghese e un'avanzata più rapida diciamo che gibilterra non è saldamente in mano agli spagnoli ma ancora c'è dunque andiamo un attimo ad alleggerire la tensione spostandoci un po' più in qua in arabia saudita ricordiamo che tutti gli stati dell'arabbia cioè gli altri stati che non erano l'arabbia saudita si sono uniti creando il mega stato di arabia il 9 agosto qualcosa accade in yemen nonostante la sua non ammissione nella grande arabia avvengono infatti numerose proteste per unirsi al grande stato dopo numerose discussioni all'interno dello stato la grande arabia lo integrerà sebbene con riluttanza poiché la scarsa stabilità politica la sua stabilità politica la scarsa sicurezza le idee abbastanza o forse troppo populiste potrebbero essere un problema pensate credo sia una delle prime volte in questa serie che uno stato chiede di essere annesso e lo stato che lo annette ha paura di farlo però adesso la penisola araba ha un altro problema in meno potremmo dire o forse in più il 15 agosto per ferragosto gli stati non si fanno una bella scampagnata ma in europa si registrano 50 gradi in particolare al sud della spagna e posso anche capirlo ma anche in sicilia e in grecia riscaldamento climatico qualche gas serra chissà cos'è sì esattamente questo ragazzi nel 2039 diciamo che le rogne sono già in stato avanzato 15 anni dopo questo video potete esserci già tanti problemi ma non pensiamo a questo caldo spostiamoci dove di caldo ce n'è sicuramente ancora di più ovvero qui infatti iaf e abissinia approfittano della cosa per dare inizio alla campagna d'egitto per tentare di liberare l'egitto dall'accelerazionismo e sbloccare così il fronte nonostante le truppe ben addestrate dall'egitto rimane un 2 contro 1 dove peraltro i singoli due sono già più forti dell'egitto dopo numerosi combattimenti accaduti in gran parte tra la marina nel mar rosso l'egitto subisce una grandissima sconfitta e numerosi chilometri di costa verranno conquistati dagli abissini la situazione cambia quindi nel seguente modo con territori di costa che se ne vanno la rabbia inizia di inviare allo stato accelerazionista numerosi aiuti e sembra che inizia a progettare un'invasione del sudan approfittando della sua posizione di potere nel golfo ma non lo vedremo certo oggi tornando in europa il 19 agosto i portoghesi riescono ad avanzare in un'altra città non una che vi aspettereste infatti non cadrà a cadiz ma cadrà l'importante città di marbella diciamo così si crea un isolamento molto grande che lascia isolati più di 100.000 soldati spagnoli contro circa 200.000 troppe gusa e numerosi portoghesi solo contro quelle province lo stesso giorno i bombardieri dell'idc inizieranno a bombardare presentemente seuta ovvero qua sotto una città che è ancora in mano alla spagna per rendere più facile al marocco la sua conquista in questi bombardamenti però purtroppo perderanno la vita molti più civili che militari diciamo che anche l'idc si sta iniziando a ridurre a questi mezzucci dopo i vitruviani dell'asio e dopo molte altre cose che abbiamo visto i gas chimici gas chimici e molte altre cose anche l'idc sta iniziando i suoi abomini diciamo necessari ahimè per salvare il mondo ma mai ovviamente i livelli di kalimov che come detto ha fatto ben di peggio leggermente più a nord però senza peraltro cambiare paese le cose non vanno bene il 21 agosto infatti a barcellona una nuova rivolta scoppia chi la catalogna eccola qui è tornata di nuovo ovviamente come catalogna rivoluzionaria i leader catalani che prima erano scappati in italia decidono di tornare infatti in patria per rifondare lo stato rivoluzionario catalano che nel giro di pochi tempi anche riuscirà ad annettere le città vitali di tolosa e girona e insorgono infatti contro la spagna e si uniscono alla causa essendo già la seconda rivolta i catalani hanno anche armi donategli dal marocco in segreto in attesa peraltro di aiuti dai grandi stati uniti d'america negli stessi giorni un altro stato discende in rivolta contro la spagna stiamo ovviamente parlando della galizia a volte ritornano esatto a volte ritornano devo solo trovare dove sono i ribelli qui perfetto e con questa insurrezione anche altre città oltre alla capitale emergono uno e due per adesso queste volte sono piccoline ma di sicuro sono molto importanti infatti la spagna sull'orlo del collasso politico dovrà attivare il quarto livello di reclutamento truppe ma dalla sua parte ha il morale delle truppe che è molto alto per riprendere i territori domestici che sono stati persi il giorno seguente però i portoghesi lanciano un'ultima offensiva d'estate catturando davvero una città critica come cordoba e il 22 agosto tramite un'arresa delle truppe spagnole sull'accerchiamento cadice gibilterra a nord è circondata e a sud i bombardamenti su ceuta non sembrano finire gibilterra ora è seriamente nei guai e la spagna può fare poco però torniamo in turchia la situazione è davvero critica la russia infatti infastidita dalla non avanzata paracaduta dietro le file dell'esercito turco 500 vitruviani inizierà l'ennesimo sterminio che porterà però in maniera meno efficace poiché i turchi sono determinati a combatterli a ogni costo anche a mani nude nonostante la distruzione di alcuni vitruviani la russia inizia a preparare il 29 agosto l'operazione eterno ermak di cosa stiamo parlando beh vi basta sapere chi sia l'ermak del quale stiamo parlando tornano dopo tanto tempo i momenti wikipedia siamo infatti a parlare della conquista russia della siberia che cominciò nel 1580 quando 540 cosacchi guidati da ermak timofevich invasero il territorio dei manzi soggetti a kutsum il khan della siberia di sibir il khan ricordiamo che siamo ancora ai tempi dell'impero monaco di monaco mongolo no mongolo io cioè anche mongolo io ma mongolo l'impero una volta che il gran khan morì venne diviso in bari canadi tra i quali quello della siberia furono accompagnati da 300 fanti schiavi lituani e tedeschi che gli stroganoff avevano comprato dallo zar durante tutto l'anno questo esercito poi attraversò il territorio e sappiamo bene com'è finita dunque ermak infatti fu il generale che guidò questa operazione e kalimov grande dittatore emunatore vuole murare le sue gesta ma se siamo in temi di rivolte perché non menzionare anche la francia giusto e dai menzioniamo anche la francia in francia scoppia il caos il suo popolo inizia a diventare stufo di combattere una guerra così lenta così come è la guerra in germania e inizia a insorgere special modo in bretagna ricordiamo che la bretagna è aspettate che devo trovargli la capitale la bretagna che si trova ma non me la segna sulla mappa eccola qua dobbiamo segnarlo ovviamente come ribelle perché per ora fino a fine guerra nessuno stato potrà essere ahimè riconosciuto i ribelli bretoni sono qua e altre città decideranno di unirsi alla causa così questa questa e questa le prime città iniziano a insorgere contro la francia la situazione è diversa in germania dove troviamo sì degli scioperi ma di intensità molto minore sia a quelli francesi sia a quelli storici della prima guerra mondiale perché beh è la germania ad essere in basa e il popolo nonostante stufo è determinato sia a vincere sia a recuperare territori sia magari nell'infliggere un gran colpo alla francia quindi sta prevalendo l'orgoglio nazionale per adesso ma spostiamoci su un fronte che oggi abbiamo toccato molto poco il fronte di israele l'egitto menzionato israele no il 5 settembre dopo più di un anno di stallo la grande arabia riesce a riconquistare una buona parte dell'ex palestina nonché la west bank di israele la popolazione nonostante stanca della guerra acclama i nuovi arrivati come liberatori dell'oppressione israeliana diciamo che la situazione in termini di territori cambia nel seguente modo con la perdita di un territorio cruciale per israele che adesso sì è davvero nei guai l'11 settembre però data a caso no cioè in realtà perché avviene ciò che cambierà le sorti della guerra dopo un mese di pesantissimi bombardamenti e con oltre il 90 per cento della città distrutta gli ultimi soldati spagnoli evacuano salutano abbandonano evitano distruggono abbandonano seuta lasciandola in mano marocchina nonostante in genti perdite l'evento è fatto e ora sì che la guerra può cambiare infatti numerosi aiuti alla catalogna riusciranno ad arrivare all'idc con più facilità ma ora iniziamo ad avviarci verso la fine definitiva tornando in slovacchia che succederà qui l'esercito cieco dopo numerose battaglie riuscirà ad arrivare a poco meno di 5 chilometri da bratislava riuscendo a conquistare un altro importante territorio come la città di trnava il governo per evitare di vedere assediata la propria capitale capitola e scusate questo gioco di parole che non era voluto o forse sì ma il 10 settembre la slovacchia cade definitivamente diciamo non era la loro guerra forse in fondo in cor loro lo sapevano diciamo che adesso inizierà una corsa ai territori nel quale per fortuna loro i ciechi riusciranno ad aggiudicarsi almeno la capitale ma vediamo come avviene questa spartizione l'austria non farà nulla non riconore che ogni stato importante deve far qualcosa bratislava nitra e quest'altra città dal nome impronunciabile diventano cioè che l'ungheria i territori di confine più questi se li sbaffa tutti e la polonia riesce a metterci un attimino il becco mettendoci un altro po di territori ora però cosa succederà ci spostiamo in un altro fronte ma quale non lo so quindi per ora ci fermiamo qua infatti il video è finito ragazzi direi che guardando semplicemente questa mappa l'equilibrio è cambiato molto abbiamo una zona molto critica degli accelerazionisti la surchia in seria difficoltà ma qui adesso nella penisola iberica stanno iniziando a diminuire in francia ci sono rivolte la germania sta reggendo sembra che la situazione non sia poi o così critica o comunque infermabile tutto è ancora in dubbio però ricordiamo che la russia ancora al primo livello di reclutamento e ai vitruviani ricordiamo che l'america è il primo livello di reclutamento ma sta inviando tantissime truppe al in europa dopo tutti questi promemoria io concludo qui il video siamo infatti arrivati a fine agosto anzi all'11 settembre per essere precisi lo andiamo a segnare su questa mappa in questo modo qua e poi salverò lo scenario mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina per seguire le novità lasciate tanti tantissimi piace passate dal server discord dal canale twitch dal canale di pricks e di terp giraci co autori della serie con me detto ciò credo davvero di avervi detto tutto spero che questa serie vi piace ancora e noi ci vediamo con un prossimo video